Posso confermarvi che ho ricevuto un'informazione di garanzia in qualità di rappresentante legale dell'ente per quanto riguarda presunti abusi ed inizi realizzati sul cantiere della paratia in quanto non sarebbero sostenuti i lavori già dal loro inizio da titoli abilitativi validi. Ho spiegato un attimino, ho fatto vedere i documenti che sono arrivati, perché tutti fossero aggiornati sulla situazione e dopo di che adesso ci prendiamo il tempo per verificare tutto quanto, valutare i contenuti e capire cosa succede domani. Ma alla luce di quanto è successo in queste ore lei conferma la volontà di andare avanti? Ho detto che ci sono da fare le valutazioni anche delle conseguenze, delle scelte che possono essere suggerite, per cui è chiaro che l'opzione di azzeramento del cantiere è un'opzione molto penalizzante per la città, è quella verso cui sembrerebbe ci indirizzassero, anzi ci indirizzano in modo non esplicito ma evidente sul documento di ANAC, siccome ci sono anche delle conseguenze di queste scelte, voglio che sia analizzato punto per punto tutto quanto viene giudicato o pregiudizievole dell'approvazione della variante, perché voglio che qualcuno mi dica compiutamente se c'è qualche elemento superabile che ci consenta di andare avanti o se invece ci sono elementi inamovibili che pregiudicano questa strada. Io avevo già dato la disponibilità sabato ad incontrare tutti i consiglieri comunali anche di minoranza oggi pomeriggio, tra l'altro abbiamo mandato a tutti subito sabato il documento di ANAC, questo in termini di non solo trasparenza ma anche immediata trasparenza, perché l'hanno avuto in mano durante la mattinata di sabato tutti quanti perché è stato consegnato a tutti, quindi certo questa è una novità in più sulla quale non so quanto potrò parlare o ragionare con i consiglieri perché ci sono anche condizioni diverse. Le scelte che sono state fatte sono sotto gli occhi di tutti in termini di visibilità e di trasparenza, per cui non si tratta che di aggiornare con quanto sta succedendo. A chi le chiede di dimettersi? Me l'ho detto l'altra volta, ho accettato questa responsabilità, ho dato la disponibilità per questa responsabilità, per cercare di risolvere un problema, diversi problemi ma questo soprattutto problema che non abbiamo certo creato noi, quindi non scappo di fronte alle difficoltà ma vado avanti a cercare se esiste a questo punto, mi dico se esiste una strada per risolverlo questo problema. A questo punto qualche dubbio sul fatto che esista la strada comincio a pormelo.